Sacco e banzetti furono arrestati, apposta l'una sera con sorpresa, da aver ucciso pure l'accusati e per perdetto furono in attesa, ma tutto il manno in sorta tale atto e più di un dibattito passò per fare almeno luce sul mistato, ma tutto in bella legge condannò. Se ne so spesi dollari sperando di salvare quelli infelici uomini da dubbia reità. Sacco disse noi siamo innocenti, e chi ci condannò lo sa pur bene, ci han calcolati come delinquenti, stringendosi più forte le catene. C'è il nostro fine in questo caso nuace, di classe all'odio che fa condannare, mentre nel mondo intero una voce si innalza per poterci liberare. Ed ho finito disse, guancetti parlerà, io fin da un miso esprimere e gli continuerà. Guancetti l'altro martire parlando, con la voce calma e senza aver paura, discusse quel delitto più ne fango, e pur l'orror della condanna oscura ai giudicelli disse condannate, rimorso approccio avrete poi un dì. Le nostre idee avvertono avanzate, ma non per questo noi dobbiamo morire. Il mondo guardia attende e grida a Gnarkasì, nessuna sedia elettrica non debbano morire. Il mondo guardia attende e grida a Gnarkasì, allora ci vediamo. Grazie.